Sì, sì, sì. Faccio il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Problemi per Sebastia, dimostra i quali tirarsi dalla gara. Ma inoltre attenzione, maniere già avventista. Non puoi sorpassare, e che la situazione non è normale alla normalità. Attentile, maniere nera. Devi rallentare prima di entrare, compagno di un'altra velocità. Alla fine della casa, levo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Alla fine della casa, levo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Alla fine della casa, levo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Alla fine della casa, levo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. A presto iscritti, levo penalizzato di Alla fine della casa, i commissari ti hanno assegnato delle t fewolelle, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Grazie a tutti. Assolutamente fantastico, splendido risultato. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti dopo questa straordinaria prestazione.